Music Beats 19 marzo 2019 Il cantante sfiderà il team guidato da Ricky Martin nel talent condotto da Maria De Filippi Ieri si è svolta la registrazione dell'ultima puntata del sabato di Amici prima dell'inizio della fase serale del talent show Proprio ieri sono trapelate le prime voci sull'identità del secondo direttore artistico della diciottesima edizione del programma, si tratta del tenore Vittorio Grigolo Sarà proprio lui a scontrarsi con la pop star Ricky Martin che sarà, invece, alla guida dell'altro team Vittorio è forse poco conosciuto dal grande pubblico ma ha alle spalle una carriera di successi, nato ad Arezzo ma cresciuto a Roma Il tenore ha esordito a 13 anni nella Tosca al teatro dell'Opera della Capitale, condividendo sin da subito il palco con il grande Luciano Pavarotti A 23 anni Vittorio è diventato il più giovane tenore a esibirsi alla Scala di Milano, oltre alle tante opere delle quali è stato protagonista, Vittorio ha registrato ben sette album ottenendo in passato anche una nomination ai Grammy Awards Al momento non è ancora stato rivelato il colore della squadra che guiderà, tuttavia, poiché Alberto Urso, il giovane tenore di questa edizione, fa parte della squadra blu Tutto fa supporre che Vittorio guiderà questa squadra mentre Ricky Martin sarà il coach di quella bianca